Cerimonia di inaugurazione nel Salone dei Marmi di Palazzo di Città del XX Congresso Nazionale dell'Associazione Moglie Medici Italiani, un'associazione no profit costituita dalle moglie, dalle vedove dei medici e dei laureati in odontoriatria, riunite dal Comune desiderio di finanziare la ricerca in campo medico. Oggi l'Associazione prosegue l'attività con molteplici iniziative, attenta alle problematiche che la società pone, opera attivamente in stretta collaborazione con la classe medica per un'educazione sanitaria ed una corretta divulgazione della medicina preventiva in favore della popolazione, sempre in stretta collaborazione con la classe medica. In quest'ottica ogni anno organizza un seminario nazionale su argomenti di rilevante interesse scientifico ed un tema nazionale che viene indicato e discusso con tavole rotonde e conferenze dalle 80 sezioni italiane che hanno all'attivo più di 6.000 iscritte. Grazie alla generosità delle socie inoltre interviene con aiuti concreti donando strumentazioni ospedaliere ed attrezzature ambulatoriali, organizzando missioni umanitarie di medici e mogli di medici laddove si sono verificate calamità naturali in Italia e all'estero. Durante la cerimonia di inaugurazione a Palazzo di Città si è svolta anche la premiazione del settimo concorso letterario indetto dall'Associazione. La serata è stata poi chiusa da un concerto pianistico del maestro Pietro Gatto.